Ciao, in questo video preparerò gli gnocchi con la crema di parmigiano e il pepe nero. Se ancora non l'hai fatto, ti volevo invitare a iscriverti al mio canale e al termine della preparazione, se la ricetta ti è piaciuta, ti inviterai a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social. Gli ingredienti che andremo ad operare saranno gli gnocchi, 50 grammi di parmigiano macinato, un bicchiere di latte intero, pepe nero. Mettere l'acqua sul fuoco. Appena l'acqua inizia a bollire, calare gli gnocchi. Facciamo scaldare a fiamma bassa il latte in una padella. Aggiungere una parte del parmigiano reggiano. Mescolare, aggiungere una spolveratina di pepe nero e continuare a mescolare. Appena gli gnocchi vengono a galla, scolarli e versarli in padella. Iniziare a saltarli nel sugo fino a quando il sugo non si restringe. Appena il sugo si è ristretto, possiamo impiattare. Aggiungiamo il resto della cremina. Ricopriamo con la restante parte di parmigiano. E diamo un'ultima leggera spolverata di pepe nero sul piatto. Bene, per questo video è tutto. Ci vediamo il prossimo. Ciao! Ciao!